salve ragazze e ragazzi carissimi tutti benvenuti bentrovati siete nel mio canale io sono Zaire sui tarocchi questo è il mio nuovo interattivo inerente alla rubrica che cosa vi accadrà dal al faremo adesso la settimana prossima che sarà dal lunedì 6 febbraio a domenica 12 febbraio quindi cosa vi accadrà con la persona di vostro interesse in questa settimana quindi faremo il metodo del ventaglio quindi analizzeremo a fondo un po la situazione vostra attuale poi andremo a vedere appunto cosa vi potrebbe accadere di rilevante di importante tra voi e la persona di vostro interesse ok ragazze allora io ho deciso di utilizzare i same book tarot per fare la stesa per fare il ventaglio e le carte delle risposte degli angeli per una così pescare una carta per vedere che energia avete voi e che energia alla persona e appunto poi l'insieme delle due energie che cosa viene fuori quindi io vi così vi invito comunque a porre sempre le dovute raccomandazioni di rito sapete che sono interattivi collettivi estrapolate ciò che veramente vi appartiene un consiglio una parola qualsiasi cosa che vi può riconoscere allora va bene è ok se non vi riconoscete non fatevelo calzare per forza e vuol dire che per voi non c'è messaggio per questa volta va bene care e cari allora poi per chiunque interessato a un consulto personale io li faccio trovate tutte le informazioni per potermi contattare nella descrizione del video allora io inizio subito carissimi carissimi tutti e andiamo a pescare una carta l'energia vostra vediamo la vostra energia in questo momento che facciamo la domanda ecco questa siete voi vediamo cosa viene fuori viene la carta informati meglio quindi voi avete qui un'energia di voler capire un po meglio forse la vostra situazione forse volete dovete sapere qualcosa che ancora non ne siete a conoscenza andiamo a vedere l'energia della persona di vostro interesse prendiamo questa chiedi ai tuoi angeli quindi ne dobbiamo prendere un'altra ecco allora questa persona ha un'energia negativa di risponso negativo no quindi qualsiasi cosa dice no andiamo a vedere adesso insieme che energia scaturite preoccupazioni inutili ok allora qui a per quando riguarda voi abbiamo questa energia che vi dovete informare meglio cioè dovete capire meglio una situazione per quando riguarda lui è uscita la carta chiede due angeli abbiamo pescato un'altra carta di visto che la carta diceva chiedi ai tuoi angeli e qui è uscito no quindi lui ha una energia un po diciamo negativa di risponso negativo e insieme la carta viene preoccupazioni inutili quindi diciamo che probabilmente forse siete eccessivamente preoccupati per qualcosa che riguarda la vostra relazione però le carte vi dicono preoccupazioni inutili quindi diciamo così che forse dovete informarvi meglio forse voi pensate che le cose siano peggio di quello che poi realmente sono allora quindi adesso andiamo a vedere invece proprio andiamo a comporre la stesa allora per chi segue questo diciamo interattivo settimanale questo metodo del ventaglio che insomma piace molto e quindi per quello abbiamo anche persino fatto un sondaggio su questa diciamo metodologia di lettura anzi vi voglio anche dire che ho postato anche il video relativo al tutto il mese di febbraio cosa vi accadrà in amore e quindi andate pure a vedere quello con il metodo della croce celtica con due varianti a disposizione allora quindi andiamo a vedere che cosa accadrà dalla settimana del 6 febbraio al 12 febbraio con la persona di vostro interesse chiunque questa sia potrebbe essere qualsiasi persona insomma è di vostro interesse ma anche se non siete accoppiati se un ex se un amico con la persona che voi proprio portate nel vostro cuore o ne che sa nella vostra mente allora andiamo a formare il ventaglio quindi andiamo a vedere lo stato attuale della situazione con le nostre 9 carte il cavaliere di spade il 6 di spade abbiamo l'asso di pentacolo abbiamo la carta degli amanti abbiamo il 7 di bastoni la giustizia la regina di bastoni 2 4 6 7 abbiamo il 10 di pentacoli devo fare un po più di spazio aspettate ecco se no non mi c'entra l'altra carta e infine abbiamo l'eremita quindi questa è la vostra situazione in questo momento andiamo adesso a vedere la seconda diciamo fila la seconda riga che riguarda appunto quello che appunto vi succederà in questa settimana però come faccio di consueto mettiamo le carte coperte ok quindi 1 2 3 4 5 6 e 7 sono 7 2 4 6 7 esatto ora andiamo a vedere con la terza riga i suoi pensieri su di voi andiamo a vedere i pensieri di questa persona su di voi abbiamo un 4 di coppe un 8 di denari il 5 di spade l'appeso e la torre adesso vediamo cosa pensa questa persona della vostra relazione cioè la sua posizione mentale riguardo alla vostra relazione il 9 di spade il 7 di pentacoli e il 5 di coppe infine andiamo a vedere come diciamo vive la relazione istintivamente e sessualmente cioè parliamo dei sensi e dell'istinto e abbiamo una regina di bastoni in fondo mazzo abbiamo un 6 di spade allora ragazze qui abbiamo ragazzi sapete anche voi maschetti se no poi mi rimproverate che io non vi menziono e dico sempre parlo solo a femminile allora intanto andiamo ad analizzare la prima linea facciamo un ingrandimento sulla prima linea allora cosa abbiamo nella prima linea allora qui abbiamo una situazione vedete dove qualcuno alza le difese abbiamo un 7 di bastoni centrale e qui c'è questa persona che si difende scusatemi un attimo eccomi ragazze allora stavo dicendo qui c'è una persona che si difende abbiamo una sorta di difesa vedete con questo 7 di bastoni diciamo che probabilmente si difende da voi perché voi avete un po' forse evidentemente ridimensionato questa relazione però andiamo con ordine allora qui vediamo vedete ci abbiamo un 6 di spade scusate questo non è la 6 di spade ma è la 6 di bastoni è a fondo mazzo mi sono confusa allora abbiamo qua un cavaliere di spade un 6 di spade è un asso di pentacoli quindi questa persona vedete dopo aver avuto con voi dei comportamenti dubbi perché comunque il cavaliere di spade è sempre un personaggio un po' io lo chiamo il fanfarone perché comunque in maniera impulsiva in maniera diciamo anche a volte insomma con dei comportamenti un po' discutibili può fare delle azioni può anche mancare di rispetto con la sua aggressività con l'impossibilità o anche con le decisioni prese potrebbe anche avere un'area di un po' d'avventuriero insomma di non disdegnare altre frequentazioni eccetera quindi io penso che dopo un periodo di questa persona che non si è comportata benissimo nei vostri confronti e quindi c'è stato una sorta di allontanamento però io vedo in questa persona una voglia di avere con voi un dialogo una nuova possibilità una nuova opportunità abbiamo l'asso di pentacoli con il 6 di con il 6 scusate con la carta degli amanti per cui questo allontanamento a questo cavaliere di spade gli ha fatto rivenire voglia di avere con voi un dialogo un qualcosa di nuovamente più diciamo propositivo però voi vedete ritenete giusto regina di spade qua avete impugnato la spada vedete questa regina di spade e quindi ritenete giusto difendervi da questa situazione perché? perché questa persona non è la prima volta che si allontana e non è la prima volta che voi magari chiedete un qualcosa in più e questo invece nel momento in cui voi lo chiedete si allontana quindi questa è un po' la presentazione della situazione attuale ora potrebbe essere sia una persona del passato sia una persona che state frequentando adesso comunque l'energia è questa ok? quindi se non vi riscontrate lasciate perdere ragazze lasciate perdere ok? perché sapete gli interattivi collettivi generali non possono suonare su tutti quanti a me viene fuori questa storia cioè di una persona che ha avuto con voi dei comportamenti un po' dubbi no? di comportamenti un po' irruenti impulsivi di un qualcuno che magari non si è comportato bene potrebbe avervi anche tradito nelle aspettative nei comportamenti comportarsi male insomma no? quindi c'è stato un allontanamento questa persona nell'allontanamento ha capito che vuole con voi riprendere una attività anche fosse solo un discorso di cominciare un qualcosa però probabilmente è un po' come dire bloccato dal dal fatto che voi come regina di spade siete molto nella linea di dire no è giusto che io faccio così perché questa persona ogni tanto si allontana e non mi dà quello che io voglio da questa relazione scusatemi un attimo eccomi qua ragazze questo doppio sternuto e speriamo che non mi sta venendo nuovamente il raffreddore va bene comunque andiamo avanti nella stesa andiamo a vedere adesso i suoi pensieri su di voi no? su questa situazione come vedete qua abbiamo un 5 di coppe abbiamo un un 8 di denari abbiamo un 5 di spade l'appeso è la torre sono pensieri devastanti nel senso questa persona è incapace di un vero e proprio cambiamento è incapace sa molto male devo dire perché vedete qua sono i suoi pensieri su di voi la mente ciò che lui vede se c'è una cosa bella una cosa brutta ma qua vedo cose brutte questo 5 di coppe vedete questa persona è così così come la vedete guardate io non so se riuscite a vedere queste carte sono c'è un po' ecco qua vedete questa persona come sta seduta si guarda le tre coppe ok e le altre due stanno qua messe da parte questa persona rimpiange vi rimpiange questa persona vorrebbe con l'otto di pentacoli si sta allora lui probabilmente sta cercando di così di darsi un tono o comunque di non pensare nel lavoro eh si è tuffato in questa sua attività cerca di non pensare cerca di stare lì a lavorare però poi a un certo punto arriva il momento che sta da solo magari la sera ed ecco che lui come un appeso pensa a questa torre a questa fine che ha provocato lui perché questa persona con i cinque di spade mi sembra un po' una persona che se le crea da solo le situazioni diciamo non belle con i suoi comportamenti ecco questo volevo dire se le crea da solo quindi questo è il pensiero che ha questa persona nei vostri riguardi ok quindi un pensiero di rimpianto un pensiero di dolore acuto vedete non riesce a cambiare ad evolvere a fare scusatemi ragazzi ma non posso interrompere ogni due minuti il video però ho questo solletichio al naso e devo comunque soffiarmi il naso perdonatemi allora dicevo per cui questa persona vive questa situazione vedete proprio di crollo il crollo anche del suo equilibrio perché vi faccio notare l'appeso con la torre questa persona sta messa proprio male e io non non escludo che questa sofferenza è un po' dovuta dai suoi cioè dal resoconto che si fa dei suoi comportamenti perché lui è una persona che crea lui con questo suo modo di fare crea queste diciamo vicissitudini sue sentimentali quindi questi sono i suoi pensieri su di voi vediamo invece cosa pensa della vostra relazione allora qui abbiamo aspettate allargo un po' la telecamera così vedete allora qui abbiamo un nove di spade abbiamo un sette di pentacoli e un ah scusatemi questo era un quattro di coppe ho detto cinque ma la situazione non cambia anzi peggiora perché quattro di coppe è un grande un grande rimpianto lui non è soddisfatto della sua situazione al momento della sua situazione sentimentale amorosa si sente proprio così sapete quelle persone che dice non succede niente non c'è un cambiamento come sto male riflette riflette e si sente demotivato quindi la situazione non era diversa allora quindi dicevo come vede la vostra relazione la vede che questo sta proprio male ragazzi ma sta proprio male ma guardate il nome di spade da un momento all'altro dice qua mi cadono tutte le nove spade in testa non vuole sentire non vuole cioè lui non vuole non vuole pensare a questa situazione però è ancora vedete si tuffa nel lavoro nelle sue cose cerca di distrarsi ma non può distrarsi perché vedete sono presenti le due coppe lui non fa che pensare col rimpianto a quello che ha lasciato queste due coppe ragazze poi ragazzi come vive sessualmente estentivamente la relazione a livello sessuale ma questo i sensi e l'istinto ma questo vi vede come la regina di bastoni ragazze ma vi rendete conto la regina di bastoni è la regina proprio la passione al cento per cento cioè questa persona probabilmente non dorme la notte anche perché vi desidera passionalmente in un modo esagerato regina di bastoni rimpiange questa meravigliosa regina che sapeva dargli veramente tanto e che adesso si è trasformata nella regina di spade allora intanto vi dico un po' di segni qua abbiamo segni di aria bilancia gemelli acquario segni di fuoco sagittario ariete leone vediamo qualche altro segno che ci può interessare abbiamo il segno del capricorno quindi segno di terra allora adesso andiamo a sviluppare quello che vi accadrà in questa settimana in questo diciamo primo primo round abbiamo visto un po' com'è la vostra situazione con questa persona vi volevo anche fare notare qui la carta del fondo mazzo che è un 6 di bastoni quindi questa persona non esclude di voler ritornare da voi in qualche modo cioè non è nei suoi piani c'è anche quello quindi vediamo adesso che cosa vi accadrà in questa settimana quindi questa è la vostra situazione ragazze quindi se vi riconoscete nella situazione andate avanti allora qui abbiamo il matto abbiamo il carro vedete questo vuole una nuova occasione con voi c'è poco da fare qui abbiamo anche il re di spade è quello ci manca mai quindi ribadisco ancora i segni d'aria bilancia gemelli acquario poi abbiamo la carta del mondo abbiamo lotto di spade aspettate abbiamo anche il cavaliere di coppe e infine abbiamo il tre di spade mamma mia ragazze che succederà qua un macello c'è allora qui c'è veramente un macello aspettate voglio cercare di rimettere bene le carte per fare appunto questa piramide che io chiamo sempre piramide in realtà un ventaglio ma può anche essere una piramide perché no capovolta allora andiamo a vedere che cosa vi accadrà con questa persona allora io credo che qui questa persona vedete questo re di spade per quanto può sembrare una persona che non se ne frega tanto di voi sembra distaccato sembra uno impassibile proprio come se voi non contate nulla per lui questo è un po' quello che vi fa vedere ma in realtà cova cosa cova proprio un ritorno questo con il carro e il matto vuole con voi un nuovo inizio vedete perché lui sta proprio male male otto di spade è chiuso imprigionato in quello che ha causato che cosa ha causato questo tre di spade cioè questa questa chiusura violenta violenta nel senso dolorosa comunque una chiusura che lo sta facendo riflettere e quindi sta male quindi qua con il cavaliere di coppe e il carro e questa energia del matto lui ovviamente dice vabbè ma se questo fa finta che non se ne frega nulla di me è così distaccato come farà questo passo infatti qua abbiamo problemi sull'azione però vedete anche questa carta preoccupazioni inutili cioè questa persona che voi pensate qua è morto tutto questa persona non tornerà mai da me non se ne frega niente di me cioè voi avete questa idea perché questa è l'idea che vi ha trasmesso questa persona ma in realtà non è così non è così adesso io non vi posso garantire che ci siano sentimenti d'amore perché insomma le carte di coppe sì mi sono uscite ma sono carte di coppe a parte ecco il cavaliere di coppe che la ripresa può essere un seduttore una persona che viene da voi vi porta comunque una coppa però il cavaliere di coppe non è affidabile non è affidabile cioè non è un re di coppe questo seduttore come viene così se ne può andare quindi diciamo che l'energia di questa persona per quanto sia adesso sofferente sia così voglioso di comunque recuperare questo terreno perso con voi perché insomma questo vi vede come la regina dei bastoni cioè voi voi siete proprio la regina simbolica proprio dell'erotismo della passione della comprensione una donna anche molto ammirata una donna che sa quello che vuole sa come ottenerlo io rimango incantata guardate quanto è bella questa regina è veramente bellissima bellissima e poi vedete lo sguardo fiero che ha a voi ma chi vi tocca chi vi tocca guardate questa gamba che si intravede voi siete sexy siete bella siete una donna che quando passate qualcuno si gira c'è poco da fare quindi qua lui rimpiange questa bella tosta donna che aveva e quindi vuole recuperarvi però io sinceramente vi dico che non vedete anche qua questo no questo no da parte della sua energia riguardo la vostra situazione io vedo una persona che vi vuole recuperare perché ovviamente ha un'attrazione forte insomma sente un rimpianto capisce ciò che ha fatto c'è un asso di denari comunque c'è una carta degli amanti non è che non c'è però la vedo una persona vedete lui in questa giustizia ecco lì casca l'asino io non penso che questa persona vi possa dare questa giustizia almeno finché avrà l'energia del cavaliere di coppe quindi lui vuole tornare farà modo e maniera forse magari non tornerà per questa settimana però chissà potrebbe incominciare a farsi un po' due calcoli su come potervi avvicinare magari con l'energia del matto con qualcosa di superficiale magari che ne so un messaggino fa finta di chiamarvi poi ho sbagliato numero insomma quelle cose un po' anche così un po' infantili non un po' sciocchine perché lui è anche una persona molto orgogliosa qui abbiamo il re di spade no? re di spade è quello tutto impostato tutto così però io vi dico che questa cosa magari è nella sua testa nel suo desiderio sicuramente non vi posso garantire che è di breve come dire l'azione non è breve però in questa settimana si potrebbero avere delle piccole come dire ravvisaglie di qualcosa va bene ragazze quindi questo è più o meno quello che mi viene fuori da questa stesa quindi questo è quello che presumibilmente vi potrebbe accadere con questa persona che voi avete nel vostro cuore poi ovviamente io vi aspetto tutte e tutti nei commenti fatemi sapere se la stesa in qualche modo è stata di vostro gradimento se vi è piaciuta se vi siete riconosciuti insomma sapete mettetemi un like mi raccomando soprattutto se non siete iscritti al canale fatelo date un sostegno al canale anzi attivate anche la campanella così sarete informati in tutte le mie attività che non sono poche io vi ringrazio di essere stati con me anche questo per questo interattivo vi mando un bacione enorme e vi do appuntamento al prossimo mio interattivo ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti